Sapete come si degusta una nocciola? Dobbiamo usare tutti e cinque sensi. Quindi la guardiamo e valutiamo con l'analisi visiva la forma, il colore, le dimensioni, la calibratura. Invece con l'olfatto andiamo ad annusarla e a sentire i profumi, a percepire l'intensità dei profumi. Con il tatto andiamo a valutare, rompendo la nocciola con i nostri denti, la croccantezza e quindi la freschezza del prodotto. Poi abbiamo la parte finale del gusto dove andiamo a valutare il dolce e la persistenza aromatica, per quanto tempo il gusto della nocciola ci rimane in bocca. Grazie a tutti!